bello a tutti ragazzi, qui Alan 10 ehm... siamo arrivati ad un'altra missione sempre su GTA V Grand Theft Auto V allora vediamo questo video bello questo fuma così a giocare a tennis non in mezzo fucchi tu Michael, vai fuori mi pagano questa torta 150 euro per l'ora per fucchi la mia 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 in mezzo? Michael, vai fuori no, mi scusate, bro dicevi che hai un'attività tu e io siamo avanti un'attività e fare un'attività e fare un'attività mi scusate, bro vi farò la sessione ti sei un morto, fucchi morto vieni qui ah hey, tu, stop it what's up, man? get out of my way Michael, calm down what the fuck is going on? nothing happened it was a misunderstanding she fucked up breaking my bed bullshitting it wasn't like that you win? fuck it, I'm in let's roll let's get this mother just go kill him! segui il maestro di tennis si scopava quella ma cazzo una macchina più veloce no ah, poi ragazzi una cosa che volevo dirvi cazzo il pick up è rotto come faccio a tornarci? si anche Perchè non si distrugge? Ecco. Che cazzo. Eh, quello che volevo dire, cazzo, me lo sono scordato. Ah, se volevate trovare delle macchine potenti, proprio che corrono come lo schifo, guardate proprio qui intorno alla casa di questo, un bordello di macchine che corrono un bordello ci sono. E sono pure figli. Sì, magari usate un po' di lavoro per me, mi abbia un po' di più. ma cosemi che succedere se gli sparo ma ragazzi io se cuida per il negro coglione che ora c'è il coso ok comichia fa uno di te oh cazzo corri macchina di merda ecco perchè a volte mi fa schifo ok mi fa schifo andare avanti con ste schifo di macchina ok ok cartella l'opera buona buona in the back of the truck patty cable to one of those supports up there you finna pull this deck down? hey that frick pulled my marriage down man you really gonna be this fucking dramatic yeah whatever i told you i copped the session bud well there were a lot of freaking sessions bud i'm thinking you were working on more than just her backhand mandy's backhand has come a long way bro but sometimes it's gotta get worse to get better yeah well maybe i should come up there and practice my backhand on your face bud your negative energy is seriously bringing me down ho ho i hope it is bud we hooked up man you come into my house take my money and nail my wife are you fucking kidding me? i'm gonna stick up my hand and say that was uncool bud my bad seriously how fucking magnanimous may i please offer you my applause hello fucking motherfucker and we'll see how you like when someone fucks with your shit well hey wait you got the wrong idea pal whoa fuck here we go haha let's see what happens you are probably crazy haha oh shit be sorry now we went already man man i think that shit's coming down man man get some force on that motherfucker are you fucking serious man haha fucking a let's see how he like that whoa man fuck fuck him fuck his deck hey homie i think you put a little more than a deck down that's a foolish man who fills his house on sand baby hey man i don't think my boy matthew was thinking truck when he wrote that shit mr. de santa what the hell that's not my house bullshit oh bro i couldn't afford a place like that i'm a tennis coach i hit balls for a living i was just hiding there give me a phone give me a phone you're a dead one green light green light green light martin madraso give you green light oh i'm scared lady just fucking terrified green light green light martin madraso fuck you haha haha whoa 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 shit martin martin madraso that's what she said damn dude's a kingpin homie and you better hope i ain't hoping anything chick was hysterical chill out that code should be doing the russian brunt chick needs to chill the fuck out shit we got some heavies on us homie oh oh that was quick alright help me to go with this I'll give you the go man keep driving we can handle the right we can handle buri that's right man let's go let's leave let's leave it looks like i'm going behind how much distance we have between us i got one i got one Ma che cat? Inca ha visto che cazzo di macchine che c'hanno questo? Guardate, pure questa qui cazzo veloce, porca troia, minchia no no questa malapiglia, cazzo ma devo fare qua. Come si chiama? Voltic, minchia, minchia. Ecco. Quando la vita... Quando la vita ti inganna, ho fatto una canna. Bella zio! Ora che cazzo di macchina? Noi, grazie per la scuola di oggi, ragazzi. Non ho capito che fosse così bello. Cazzo. 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 Ora, Michael, ho una domanda per te. Cazzo. Inca. Cazzo. Ok. Cazzo. 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 Eccolo, ragazzi. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Eccolo l'alcolizzato. che ora andiamo a prendere l'alcolizzato. Eccolo. Terapia di coppia. Vabbè. Eh, per oggi niente. Per questo video è tutto. Terapia di coppia. Bella Ari... Bella Arian. Iscrivetevi. Nel prossimo video. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? Sentiamo che dicono. Even for a dead man, Michael. Ooh. You don't sound good, buddy. Tackful and charming even in death. Come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Ok. Ok. Ok, ragazzi. Eh... Niente. Al prossimo video andiamo da... Lester. Per questo è tutto. Ciao a tutti. ... Andiamo. Ok. All marketing. Like a tutti. Al prossimo video. Detta l'ho appena vi graziona. ổn F5 Pu pagina. Sic Ads. 감사합니다. Adoro. Grazie per la visione